Vi è mai capitato di camminare per strada e trovare un tappetino oppure una bancarella con della merce di dubbia provenienza oppure contraffatta? E magari dire, ma sì, la compro anch'io perché costa poco? Sì, forse è tossica, però a me di solito non fa male. Benissimo, signori, facciamo una riflessione sul costa poco. Costa poco perché in certi paesi la manodopera costa davvero poco, ma soprattutto perché è fatta con dei materiali scadenti e pericolosi che non solo vengono prodotti con dei materiali pericolosi, ma anche vengono trattati in modo pericoloso. Per esempio, il cromo esavalente è un materiale che non esiste in natura e si trova su molte scarpe e ciabatte che vengono dai paesi asiatici e molto spesso, se ha contatto con la nostra pelle, può provocare delle dermatite croniche. Pensate quando voi d'estate indossate delle scarpe oppure delle ciabatte senza calze. Altri materiali possono essere dannosi se vengono a contatto con la nostra pelle, come gli iftalati che sono contenuti nelle materiali del PVC, oppure il nickel, piombo, cromo, che molto spesso sono contenuti nelle chiusure lampo oppure nelle cerniere che vengono a contatto con la pelle dei nostri bambini. Tant'è vero che l'Università di Vari ha fatto uno studio e ha spiegato che i coloranti tessili, specialmente quelli di colore blu e resine per il fissaggio che liberano formaldeide, rappresentano le principali cause scatenanti in reazioni allergiche. Ed ora un caso. Il piccolo Arci non poteva sapere che il suo divano era stato trattato con un potente fungicida e a nove mesi si addormenta su di esso. E queste sono quelle che gli è successo. Ecco perché la moda tossica è un tema importante da non sottovalutare e da regolamentare quanto prima. Ho scritto una proposta di legge che rende uniforme a livello nazionale i metalli pesanti, le materie plastiche, i coloranti, che possono essere usati in maniera sicura nel settore dell'abbigliamento, delle calzature e della pelletteria. Attualmente la nostra normativa italiana non è uniforme, non è omogenea ed è spesso confusionaria. Per quello le nostre forze dell'ordine devono rifarsi alla normativa comunitaria. E questo favorisce che cosa? Le imprese che vogliono fare i furbetti, andando di fatto ad aggirare questa legge. Con questa mia proposta di legge è tutto definito, tutto uniforme, tutto chiaro e tutto concreto. Questa proposta è stata scritta insieme agli esperti di settore. Per questo io la metterò sull'ex e sono felice di ricevere tutte le critiche e soprattutto le vostre proposte. Grazie, alla prossima!